Un presidio necessario per testimoniare un posizionamento chiaro contro la violenza. Oggi è stato colpito un nostro ragazzo, un nostro ragazzo che viene dal Mali, ma è un nostro ragazzo della nostra città. Chi crede che queste cose, questi episodi contro i ragazzi anche stranieri si debbano evidentemente considerare lontani da noi, sbaglia, sbaglia moltissimo perché il linguaggio violento, aggressivo, l'imbarbarimento anche della comunicazione che oggi si fa purtroppo anche dai livelli istituzionali stanno producendo una violenza, stanno producendo una violenza che purtroppo potrebbe travolgere tutti, ci sta già travolgendo tutti e quindi oggi noi testimoniamo solidarietà sicuramente a un ragazzo che tra l'altro noi abbiamo accolto nel nostro sistema Sprar ormai da qualche anno che si è sempre dato da fare ed è un ragazzo che dà il suo contributo a questa nostra città.